Vedi foto video un attimo solo? Buongiorno a tutti, sono Antonio Galfapietro, sono qui nel parco giochi per bambini sul Monte Vairano. Sono qui con il sindaco Luigi Di Bartolomeo. Signor sindaco, perché ha voluto chiudere le scuole in questi giorni? Allora, ma no, purtroppo a me mi interessano i bambini. Io voglio che i bambini, vedi a me come mi sono ridotto. Io ho bisogno che stiano bene i bambini, il resto non me ne frego un gà, un gà, non me ne importa. Io voglio che i bambini stiano bene, solo di quelli mi ne importa. Per il resto, guarda i bambini sotto nella scuola, io mi dimetto lo stesso. Mi dimetto, mi dimetto, perché se resta ancora al mio posto, rimetto, rimetto, non ce la faccio più. Ho fatto tutto quello che c'è da fare. Ho chiuso le scuole, perché mi sono voluto parare il culino, perché se no mi sbattevano dentro, perché non c'era il certificato. E allora sto dentro, sto dentro, guardate qua vedete la natura, la natura. Io non voglio passare la vita dentro a due sbarre. Io chiudo tutto, chiudo tutto fin quando non arriva, fin quando non arriva il certificato. Che cosa vuole dire ai bambini per questa questione delle scuole? Stetevi alla casa, stetevi alla casa. E' più importante, un culino, un culino e no che sono andati nì per ventilazione. Non ce la faccio più manca a parlare, non ce la faccio più. Ho fatto tutto quello che devo fare. Vedete come mi sono ridotto? E' questa. Un'ultima domanda, quando pensa di riaprire le scuole? Non lo so, non lo so. Quando arrivo il certificato, quando arrivo non ce la faccio più. Quando arrivo il sto benedetto il certificato, io apro le scuole. E poi la prova antistatica la faccio io. Mi prendo un banco, mi siedo, appiccio il fiammifere. E se è il caso, meno fuoco a tutte cose. E finisce là. Grazie al sindaco Luigi Di Bartolomeo. Noi chiudiamo qui le nostre interviste. Arrivederci. Addie a tutti.